Un piano pilota nelle aree periferiche di 10 città italiane a favore della pratica motoria e sportiva e dell'educazione alla salute dei bambini. Il progetto sviluppato in collaborazione con Save the Children è patrocinato dal Dipartimento della Gioventù e della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è organizzato d'intesa con l'Istituto Scolastico De Filippo del quartiere Ponticelli, in partnership con l'Unione Italiana Sport per Tutti ed il Centro Sportivo Italiano. La scuola costituisce il momento bello, spesso costituisce il luogo simbolo della rinascita e della possibilità di rinascita nei territori difficili. Costruzione di cittadinanza attiva a partire da quando i bambini nascono. Ora, su questi processi di costruzione della cittadinanza attiva tutte le attività estive del Comune di Napoli stanno puntando. Sarà realizzato un campo scuola per dare l'opportunità di fare sport anche d'estate e promuovere un cambiamento negli stili di vita dei bambini, coinvolgendo le famiglie e lavorando nelle scuole ed in centri sportivi informali, con un focus particolare su aree e quartieri disagiati. È una forma di collaborazione virtuosa, a costi contenuti è possibile quindi andare a creare spazi, tempi e luoghi anche per il post scuola, quindi per non tenere i ragazzi a casa o peggio per strada laddove ci stanno realtà difficili come quella di Ponticelli, ma non solo perché il nostro auspicio e il nostro impegno è affinché questi progetti vengano spalmati su tutta la città. Sempre con questo format, la sinergia tra associazioni e istituzioni nelle loro parti migliori.